Giove la mamma? Giove la mamma? Giove la tua mamma? Il papà? Guarda il papà. Di chi è questo calzino? Di chi è questo calzino? Di chi è? Di chi è? Dai, prendilo tu. Dai, dai, prendilo tu. Dai, dai. Bravo! Di chi è? Di chi è questo? Di chi è questo calzino? Di chi è questo calzino? Di Simone? È di Simone? È di Simone? Ah, sì. Di Simone. Guarda qua. Puzza, 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 puzza. Puzza, puzza, puzza. Puzza, 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 puzza. Vediamo se c'è qualcosa. Ciao, Simone. Dov'è il papà? Dov'è il papà? Ah, aah, dov'è il papà? Ciao Simone Che fai papà? Poi si sta facendo papà Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Mamma dov'è? Ciao Simone Ehi ciao Ciao Vai piedini sul cosino del papà Che schifo dobbiamo bruciare la federa Che schifo dobbiamo bruciare la federa Che schifo dobbiamo bruciare la federa Che schifo dobbiamo bruciare la federa